Benvenuti al Bianco e Nero, il film che vediamo oggi è un classico del genere commedia musicale americana degli anni 30. Capello a cilindro, anno di produzione nel 1935, regia di Mark Sendrick, interpretato da Ginger Rogers, Fred D'Aster e da Ellen Broderick. È la storia di un ballerino e del suo impresario che fanno un viaggio a Venezia per raggiungere la fidanzata di quest'ultima. Ma cosa succede? Il ballerino incontra una bella ragazza, se innamora addirittura la seduce, scoprendo poi però che questa ragazza è la compagna del suo impresario. Gag, confusione, frizzi e lazzi a non finire che vi lascio gustare in questo film del 1935, Capello a cilindro, con Ginger Rogers e Fred D'Aster. Gag, confusione, frizzi e lazzi a non finire che vi lascio gustare in questo film del 1935,